Il tutti pronti quando il mezzo si fermerà e che dolce miracolo della porta che si apre venga che siamo entrati tutti in piedi naturalmente ma dimmi cosa succede adesso ma c'è conti guardi intorno oppure guardi in alto e vedi di tutti i colori ma mi moro grazie alla moda che masticano domani e due carabinieri stravolti dal caldo poveri ma cos'è questo strano odore qualcuno ha fumato e ha fumato sei ormai sicuro ti giri c'è chi guardi ma di nessuno può soffertare e chissà forse qualche dolce madre di tanti figli e di tanti problemi si è fatto una spidella non 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 Wow.